Unifizia Forum, un progetto nato all'interno della Camera di Commercio di Udine un paio di anni fa che si sta sviluppando, è stato rimodulato, tra poco ci saranno degli eventi molto importanti e voglio ricordare all'interno anche dei programmi di Unifizia Forum la mostra sul design che sarà l'evento Club per la città di Udine nell'estate 2013, ma tutta una serie di appuntamenti e eventi soprattutto con le imprese che andranno a approfondire quelle che sono le tematiche che guardano soprattutto al futuro ma con un occhio rivolto all'impresa, all'economia. Questo è un format che troverà una sua espressione estremamente importante in un evento che organizzeremo per ottobre dove parlando di futuro e innovazione coinvolgeremo quelle che sono le principali istituzioni a livello mondiale appunto su questo tema come l'Oxel, l'Istituto for the Future di Copenaghen, come il Ministero per il Futuro della Corea e molto altro. Quindi un percorso che si arricchirà via via che passeranno i mesi e che vorrà essere un punto di riferimento sempre guardando al futuro dell'imprenditoria.